stiamo scendendo a 310 metri incredibile guardate guardate che guardate che intensità qua c'è mezzo grado e sta cominciando ad attaccare fai fai luce guardate che roba guardate guardate che spettacolo incredibile qualcuno dice questo qua è matti guardate guardate che roba incredibile ma cos'era quello la che ha detto vaffanculo ha fatto uno ma vaffanculo grazie 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 grazie